ciao ragazzi nuova data 30 giugno 2023 con i queen essence data che stava per saltare in quanto piove c'è tempo un po del cazzo e niente alla fine pare si farà comunque perché probabilmente allestiranno il palco all'interno sotto un tendone non so bene dopo vedremo Rovello Porro è un paesello proprio qua vicino dove lavoro io quindi stamattina ha caricato l'auto e adesso direttamente andrò a fare il soundcheck probabilmente arriverò come al solito prima di tutti ciao a rinunciare diciamo a tutta la struttura quindi non sono capito male si stanno dando un ultimato le 5 e mezza 6 per prendere la decisione definitiva se la situazione non dovesse cambiare al momento qui piovigina leggera però naturalmente piove ancora quindi spiegaci ancora un attimo siamo arrivati ciao a tutti e benvenuti sul canale di Frank Ampese mi chiamo Andrea del Signore e sono il bassista dei queen essence bene bene l'abbiamo già visto l'abbiamo già visto è anche bravo fa anche i cori siamo nel momento di indecisione dei live quando non si sa come va a finire perché c'è quella pioggerellina che rompe un po' e quindi adesso dobbiamo capire se riusciremo a suonare sul palco grosso che come vedete è molto bello oppure se dovremo adattarci sotto il tendone che per fortuna c'è nel frattempo andremo sulle giostre lì permetterebbe di fare comunque la fermata quindi qua siamo a Rovello Sporro in pronuncia di Como mi avranno sentito ah ci sono le majorettes allora ragazzi io potrei raccontare una storia quando ero ragazzino mi sono innamorato di una majorettes che avevo incontrato in un viaggio in treno però poi non se n'è fatta nulla perché insomma io avevo 12 anni quindi finita da rockstar il nostro prezzo il leader il leader il leader il leader vai al leader facciamo un po' di pubblicità al grande Luca Colombo che ha creato per me questo ingold travel booster due al treble booster di Brian May per ottenere sonorità incredibili con la vostra ride special contattate Luca Colombo mi raccomando spacca allora io amo le feste di paese perché si mangia bene non è sempre nulla niente continua a piovere tutte le persone sono là quindi suoneremo tipo sala prove stasera con o senza con o senza oh 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 C'è un'altra cosa Grazie a tutti 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 We are the Grazie a tutti 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 Grazie a tutti